E' la pettorina del mio cane, no? No, ehi! No! E' la pettorina del mio cane, se no ti faccio le luci, eh! E' la pettorina del mio cane, la vedi? Oh, guarda, si è messa lì di fianco, vuoi. Vedi? Allora, praticamente... No, perché il flash va seco, qui. Allora... Perché non val... scusate, perché non valgono niente? Non valgono niente, perché a parte che questa qui si è tutta rotta. Vedi che si è rotta qui? Guarda. Si è tutta rotta, primo. Secondo, non hai il controllo del cane per niente. E' molto meglio il collare. Non me ne vogliono i fans degli animali. Non valgono niente, sono pericolose. Se questa qui si scuce lì, io perdo il cane, eh! Se questa qui si scuce qui... E può succedere, io perdo il cane. Vedi? Io perdo il cane. Poi, mi è toccata mettere la bagnata, perché l'aveva bagnata di piscio. Era stata buttata sul terrazzo, non era stata lavata, mi è toccato mettergliela bagnata. Adesso non vi indignate, ma... Purtroppo le cose stanno così. Quindi niente, serve... Serve il collare normale. Ho finito, il collare normale. Ovviamente gliel'ho lavata prima di mettergliela, no? Dunque, serve il collare normale. Questa è una merda. Le pettorine sono una merda. Ditelo a quei fans... Gli animalisti fans.